Signore e signori Maurizio Crozza Berlusconi è come una scatola di cioccolatini Ogni tanto quello che ti fa ingoiare non è cioccolato Quando parlo io, Tremonti dietro di me Tremonti dice ma quanto è buono, avevo buonet Ah beh, italiener, italiener Ketzenger, Ketzenger, Ketzenger Quando i marchesi mangiano fagioli, poi emettono gas nobili Livia Turcom, lei recentemente ha raggiunto gli immigrati a Lampedusa Perché? Non avevano già abbastanza sfighi? Se lei avesse un figlio gay, riuscirebbe a comprendere il suo dramma Cioè essere figlio di Giovanardi Nella lega ormai non mi capisce su nessuno, mi sembra di parlare nel vuoto Delle volte parlo con Calderoli Meglio il vuoto Italia Land Nuove attrazioni Venerdì alle 21.10 Sulla 7 E in diretta anche su Youtube e la 7.it